Ho preso spunto dal mio ultimo lavoro, il mio ultimo libro, Travultus e Persona, in cui c'è proprio un capitolo relativo al furore, alla pazzia di ben quattro regine dell'antichità, della tragedia senecana soprattutto, in cui si parla proprio del furore di Medea, Fedra, degli Anire e di donne per la parte virgiliana, ma il denominatore comune è proprio questo furor che le pervade e attraverso il quale queste donne cercano di punire i loro mariti o comunque i loro uomini che le hanno abbandonate o tradite. Allo stesso tempo tutto questo si ribalta nell'attualità, cioè dall'antichità il passaggio immediato dall'ante al nunc, in cui però tutto questo viene declinato al maschile, cioè ora è l'uomo che vuole uccidere la donna che lo abbandona, o col coltello o usando l'acido, in ogni caso quotidianamente abbiamo notizia di questo.